ciao da afsim interessante la posizione di jerry cardinale interessanti le sue parole nell'evento del financial times anche riguardo a ibrahimovic ha parlato pure dello stadio ma concentriamoci soprattutto sulla questione sportiva sulla gestione sportiva e sulla questione pioli perché abbiamo un vertice di società che è un caso veramente raro nel calcio italiano quantomeno si esprime in maniera abbastanza esplicita e negativa esplicitamente negativo nei confronti dell'allenatore nei confronti della guida tecnica pur non essendo proprio diretto al massimo cioè non è stato proprio chiaro nel dire proprio pioli non va bene non siamo soddisfatti di pioli ma fondamentalmente la deduzione è quella e ripeto è una rarità che va premiata va premiata questa schiettezza questa sincerità questa onestà che non significa invadenza che non significa esagerare come fanno altri presidenti che cambiano un sacco di allenatori che fanno percepire ai giornali troppo spesso che l'allenatore in discussione che l'allenatore in bilico che in generale parlano troppo e ne parlano troppo qui c'è moderazione c'è equilibrio c'è il giusto distacco anche con questo ruolo dato a ibraimovic che dice cardinale mi consente di essere ubiquo di essere contemporaneamente in america e a milano come se fossi presente perché a lui posso demandare tutto posso delegare tutto e ha un'autorità una torrevolezza che è formidabile che nessuno avrebbe e quindi tramite lui posso parlare nei confronti dei giocatori dello staff e di chiunque quindi fondamentalmente cardinale sta rimarcando nell'elogiare ibraimovic sta rimarcando questa preponderanza di ibraimovic anche rispetto a pioli questa soggezione di pioli a ibraimovic ora pioli ibraimovic erano stati in una situazione quasi paritaria il che già era strano perché ibraimovic era calciatore di pioli però era più che un calciatore e pioli ha sempre parlato benissimo di ibra ha sempre elogiato ibra per il suo ruolo nello spogliatoio anche quando era infortunato adesso si è ribaltata la situazione perché abbiamo ibra sopra pioli e sembra quasi che ibra stia cercando di far fuori pioli tra virgolette pur con tutto il rispetto e magari anche l'ottimo rapporto umano e personale però si dice che ibraimovic stia cercando di portare conte al milan allora facciamo questi ragionamenti perché che cosa dice cardinale e che cosa può significare in chiave futura e proviamo anche a proiettarci nel milan della stagione 24 25 quali possono essere le esigenze quale può essere il progetto sportivo se c'è un progetto sportivo cardinale dice ci sono troppi infortuni è vero che ci sono tante partite ma non può essere solo colpa dello staff medico non può essere solo colpa dello staff medico poi dice insomma abbiamo una buona squadra con tanti giocatori giovani e poi dice non possiamo essere soddisfatti di non essere primi non possiamo essere soddisfatti di non essere primi il fatto che non stiamo facendo male non significa che stiamo facendo bene ora al di là che a me piacciono tantissimo delle dichiarazioni del genere e che secondo me sono juventilissime se vogliamo tornare al discorso di quella che fu l'identità e la mentalità juventina ormai distrutta e calpestata credo che abbia anche ragione al di là al di là dei gusti e obiettivamente una squadra come il milan non può essere soddisfatta di non essere prima o una squadra come il milan di cardinale magari più precisamente perché ci sono stati tanti milan e diversi milan degli ultimi anni dovevano accontentarsi di essere quarti visto che tante volte non sono stati neanche non sono andati neanche in champions in questo momento il milan non è più una roma o una lazio con tutto il rispetto ma guardando lo storico degli obiettivi degli ultimi anni il milan vuole tornare ad essere il milan e quindi siccome ha vinto lo scudetto non vuole far sì che vincere lo scudetto non vuole lasciare che vincere lo scudetto sia un'occasione di tanto in tanto anche perché questo era quello di quest'anno era lo scudetto della seconda stella e che l'inter che ricordiamolo io noi siamo cresciuti negli anni 90 sappiamo bene che la juventus ok due stelle prima di tutti poi c'era prima il milan in prossimità di prendere la seconda stella e poi c'era parecchio dietro l'inter qualche scudetto in meno l'inter che per anni per tanti anni non l'ha mai vinto quindi per chi per per noi figli degli anni 90 del calcio degli anni 90 vedere che sia l'inter a prendere sta seconda stella tanto ambita da da anni 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 da decenni prima del milan è una cosa assurda che poi ci sarebbe da dire che uno degli scudetti dell'inter non sarebbe da considerare perché calciopoli tralasciamo perché non ci interessa adesso perché non ci interessa neanche il discorso seconda stella sono 19 sono 20 sono 18 il punto qual è che milan e inter si trovano con lo stesso numero di scudetti lo scudetto successivo ti aggiunge qualcosa sulla maglia e ti aggiunge qualcosa nella storia nell'orgoglio dei tifosi e quindi è chiaro che chi vince vince anche sull'altro e chi perde perde due volte questo quindi era sarebbe stato lo scudetto più importante rispetto al precedente e cardinale non vuole che il milan vinca uno scudetto ogni 5 o 6 anni ma ne vinca più di frequente e quindi giustamente non accetta che il milan non vinca non possa vincere non debba vincere lo scudetto c'è insoddisfazione però sarebbe bello sentire appunto qualche dirigente della juventus perdonatemi se faccio questa parentesi e dire non possiamo essere soddisfatti se non siamo primi e non fare male non significa fare bene ma soprattutto non fare male non significa fare bene soprattutto soprattutto in una in una narrazione che addirittura esalta e difende i pareggi come non sconfitte gente che addirittura dice hai visto l'atalanta ha perso 4 a 0 con l'inter quindi era giusto non andare a san siro per giocarsela a viso aperto se no avremmo preso l'imbarcata e poi com'è finita ha vinto comunque l'inter 1 a 0 quindi sempre 0 punti e 3 punti all'oro e questi sarebbero i risultatisti ma vabbè scusate la parentesi chiudiamo però c'era da dire anche questo e allora tra l'altro pioli in conferenza stampa pre lazio che cosa dice lo scudetto è andato l'ha vinto l'inter o comunque credo che la classifica da quel punto di vista sia chiusa e l'inter sta facendo un campionato straordinario verissimo l'inter sta facendo un campionato straordinario indiscutibile però come non mi piace quando lo dicono allegri e i suoi allegri e i suoi non mi piace sportivamente sportivamente neanche quando lo dicono pioli e i suoi che cosa che ormai il campionato è andato perché l'inter sta facendo qualcosa di straordinario ma l'inter sta facendo qualcosa di straordinario anche per la mancanza degli altri anche per le carenze degli altri e se no sarebbe troppo facile che fa gioca da sola l'inter chiaramente le sue partite le gioca da sola con i suoi avversari per cui se l'inter batte il lecce è indipendente da quello che fa il milan con magari con con altre squadre nel frattempo e che magari non fa punti o non vince e quindi su questo sì però qui magari c'è il campionato straordinario dell'inter però se tu nel momento in cui l'inter vince non vinci non stai facendo il campionato straordinario dell'inter quindi non basta dire questo non basta nascondersi dietro la forza dell'inter come se fosse cresciuta spontanea come come l'erba spontanea come come gli ortaggi così all'improvviso oppure come se fosse caduta da un albero no e la forza dell'inter è stata costruita quindi inzaghi ha potuto costruire questa forza insieme allo staff insieme alla dirigezza insieme ai giocatori cosa che pioli non è riuscito a fare e inzaghi non ha avuto il mercato di pioli quest'estate ha avuto mercato ha avuto mercato giocatori importanti ma non ha avuto quel mercato lì anche di spese anche di investimenti anche di giocatori cercati e studiati per un certo progetto sportivo ora quindi che cosa dice fondamentalmente cardinale che pioli fuori cioè è abbastanza evidente quello che dice cardinale significa che pioli a fine stagione arrivederci addio cosa che viene in realtà percepita da tanti al di là di quello che dice cardinale quindi in realtà le dichiarazioni di cardinale non sono neanche così sconcertante questo punto di vista però sono importanti perché sono una conferma di una fonte la più attendibile possibile cioè quello che deve decidere quello che decide ha detto che per lui non va bene questa situazione o quantomeno è uno sprone a fare molto meglio ma ma per l'anno prossimo perché ormai infortuni hanno inciso si possono cercare di infortunarsi meno ma per quello che è stato il campionato e per quella che è stata la champions league è andata e per quanto riguarda appunto non essere primi ormai è impossibile ripartare questa situazione si deve solo cercare di fare il massimo in europa league però appunto se trasportiamo nel terreno europa league la frase non possiamo essere soddisfatti di non essere primi significa deve vincere l'europa league la traduzione è deve vincere l'europa league ora questa è la situazione questo sembra essere il voler di cardinale due spunti cosa può fare pioli e cosa può fare il milan e cosa vuole fare il milan dal punto di vista sportivo sul discorso cosa può fare pioli secondo me pioli farebbe benissimo a serenamente separarsi dal milan perché noi neanche gli conviene cioè accettare magari anche già accettato accettare di finire così magari non in gloria pur cercando di vincere l'europa league però sarebbe stato ovviamente molto meglio andarsene da pioli son fire tutti in estasi per pioli quelle state lì con la vittoria dello scudetto però magari percepiva di avere ancora da fare e poi si è trovato un napoli l'anno dopo si è trovato un napoli cioè l'anno scorso formidabile però anche lì il milan avrebbe potuto fare molto meglio batte il napoli in champions batte napoli in champions ma non riesce poi ad andare oltre l'inter però in campionato e batte il napoli però il campionato era era straprimo il napoli e il milan in questo senso in difficoltà anzi sostanzialmente per un discorso di classifica non vorrei sbagliarmi ma mi pare proprio che il milan sia entrato esatto il milan è entrato in champions grazie alla penalizzazione della juventus tra l'altro altrimenti la juventus sarebbe stata terza esatto con l'inter quarta con praticamente gli stessi punti quindi il milan sarebbe stato anche fuori dalla champions consideriamo anche questo per quanto poi è un discorso che lascia il tempo che trova perché la penalizzazione della juventus è stata realtà materiale e percepibile non alla fine della stagione a cose fatte ma durante per cui è chiaro che il milan magari senza quella penalizzazione avrebbe fatto più punti perché avrebbe detto dobbiamo avrebbe cercato di fare più punti perché dice dobbiamo scalare la classifica c'è la juve davanti percependo che la juve era dietro chiaramente cambia anche la percezione e quindi pioli farebbe bene ad andare via tanto dovrebbe esserci libera quantomeno la panchina del napoli e pioli al napoli potrebbe anche essere una buona soluzione per pioli oltre che per il napoli certo il napoli ha bisogno di un allenatore poi della rete si è fissato col 433 che magari non è perfettamente nelle corde di pioli però come stile di gioco siamo ad una certa diversità e poi arriviamo anche allo stile di gioco del milan però comunque pioli non è tanto lontano non è tanto lontano a livello di calcio propositivo di calcio offensivo a livello di pure possesso palla a livello di un certo tipo di costruzione del gioco anche estro e tecnica dei singoli uno contro uno non è tanto lontano da quella che può essere una buona dimensione di un nuovo napoli da proseguire più che rifondare da proseguire quindi ci sarebbe ottimo materiale su cui lavorare al netto ovviamente del calcio mercato soprattutto osimen che probabilmente andrà via quasi sicuramente andrà via però chissà da quel punto di vista magari restando pioli potrebbe comunque perdere le ao e magari anche altri così come potrebbe perderlo quindi il nuovo allenatore del milan e quindi per pioli l'opportunità secondo me è valida quella di andarsene più che di restare per cui poco male anche se non è mai bello essere in una situazione del genere con questi giudizi essere soggetti a ebraimovic che cerca il prossimo allenatore e sentire che il presidente dice queste cose il proprietario dice queste cose però progetto sportivo milan chiudo con il discorso progetto sportivo milan che cosa vuole essere il milan dove vuole andare il milan secondo me con il primo anno di questa nuova dirigenza che poi è sfociato nell'addio nella cacciata di maldini e massara che forse in parte è stato un errore e poi però la conferma di pioli con tutto il calcio mercato che è stato fatto di ottima qualità di ottima qualità e lo ribadiamo nell'estate 2023 si proseguirà su questa linea per cui moneyball quindi ricerca dei giocatori per qualità caratteristiche per fattore sportivo quindi una programmazione fatta di giocatori che in parte sono pronti però hanno l'età giusta per continuare a crescere per svilupparsi per fare un calcio propositivo tecnico vivace attrattivo un calcio un calcio quindi di qualità europeo internazionale questa è la vocazione che sembra essere del milan e che è sempre stata del milan il grande milan era questo per principi per valori fondamentalmente il milan degli olandesi e non solo poi ovviamente c'è sempre stato anche un grande blocco italiano fortissimo però era anche un'altra epoca come qualità dei giocatori italiani cioè se dobbiamo dire che il capitano del milan era maldini paolo maldini e adesso è calabria con tutto il rispetto a me calabria non piace moltissimo come calciatore sono miei gusti a parte questo quindi si proseguirà anche con la necessità eventualmente di mercato ma come stile di gioco che si fa perché si parla di tiago motta al milan e di conte per quanto ne so io è più tiago motta che conte per quanto ne so io è più tiago motta che conte al milan per carità tiago motta fantastico penso che i tifosi al milan possano essere solo che soddisfatti al di là del passato interista di tiago motta penso che su questo si possa tranquillamente sorvolare e su questo i milanisti forse sono meno sensibili rispetto a interisti giuventini forse e napoletani soprattutto però tiago motta non fa il calcio di pioli e qualcuno direbbe meno male certo però c'è una ci sono ci sono aspetti diversi abbastanza importanti poi è ovvio che non è mai pensabile espiantare un allenatore da una da un contesto e impiantare in un altro contesto pensando che faccio le stesse cose per cui non è neanche un problema se motta fa cose diverse farà cose ulteriori ulteriormente diverse al milan adattandosi a quelli che sono i giocatori che avrà e forse si porta pure zirk ze forse se lo porta anche soprattutto dovesse andare via leao e potrebbe quindi anche utilizzare lo stesso modulo di di pioli che che bene o male è quello del bologna in realtà l'assetto è quello però è il modo di giocare che cambia ed abbastanza che cambia abbastanza ci sono proprio dei pattern diversi basta vedere giocare le due squadre oppure potrebbe anche cambiare il milan in un 4 3 3 o perché no anche in una difesa 3 per esempio cioè potrebbe fare tante cose motta potrebbe essere portato a fare tante cose perché un allenatore che studia che che ama anche la complessità tattica rendendola semplice quindi uno che che costruisce che valorizza per cui non avrebbe grossi limiti anzi sarebbe supportato probabilmente anche da quei giocatori che non sono stati valorizzati da pioli ciuquezza ocafor in parte anche rinders eccetera quindi potrebbe essere una buona soluzione però la butto lì e chiudo secondo me invece per dare continuità al calcio di pioli cioè voglio dire è chiaro che adesso uno vuole liberarsi di pioli proprio perché non piace il calcio di pioli però come stile di gioco come modalità di azione per come per come praticamente stare stare in campo per qualità per caratteristiche e quindi per non discostarsi troppo da quello che è l'impianto attuale forse tiago motta non sarebbe in questo senso l'ideale come transizione per essere per fare una transizione meno brusca a livello di stile di gioco certo ripeto ci sono delle somiglianze però potrebbe essere magari utile per il milano visto che vuole essere anche a vocazione internazionale andare a pescare qualche allenatore all'estero non faccio nomi perché non sono abbastanza preparato quindi confesso la mia ignoranza e come stile di gioco si potrebbe andare a prendere anche qualcuno non so in bundesliga in liga anche in premier league però lì diventa magari difficile convincere qualcuno a venire da fuori ad allenare il milan che non sia un allenatore low profile che deve ancora farsi che deve ancora crescere come tiago motta che è ambito anche all'estero però potrebbe decidere di fare un ulteriore passaggio di conferma e di consacrazione in italia chiarisco meglio non sto dicendo che il milan non può prescindere dal gioco di pioli che neanche funziona più tanto bene che neanche piace e rispetto al quale subisce critiche che non gradisce perché nella conferenza stampa di ieri non mi è piaciuto quando ha risposto come ha risposto alle critiche che riceve dei giornalisti e dei tifosi e dei tifosi mediate dai giornalisti secondo me le deve accettare più serenamente perché se sa che sta facendo un buon lavoro prosegue nel buon lavoro come dice però poi nei fatti ci sono dei problemi dico semplicemente che il milan se ha deciso di proseguire con pioli quest'altro anno sapendo come pioli avrebbe lavorato su questi giocatori non ha molto senso poi dare un'eccessiva discontinuità un'eccessiva discontinuità poi magari mi sbaglio e motta invece si incastra perfettamente facendo fare quell'evoluzione che serve senza essere brusca senza essere appunto troppo 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 discontinua vediamo intanto e credo che per il milan per i tifosi del milan sia prossimo un periodo migliore di questo quindi rivedere un po di luce dopo tanta sofferenza con pioli ma non del tutto comunque dopo tante difficoltà dopo tante insoddisfazioni anche e quindi si può essere secondo me si può confidare si può essere fiduciosi nel progetto milan viste le premesse viste le parole di cardinale che si dimostra sensibili ad una serie di problemi che sono i problemi del milan in questo momento infortuni posizione in classifica quindi rendimento come risultati e anche gioco grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti tra milanisti e non solo perché naturalmente è un tema di importanza per tutti gli appassionati di calcio italiano ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti grazie a tutti